Ecco qua, dopo aver terminato di pitturare tutto quanto, iniziamo con i mobili. Come vedete qua non abbiamo ancora terminato di rivestire con il legno perché stiamo aspettando che arrivi questa finestra che era rotta, l'abbiamo ordinata, però ci sta mettendo più del previsto ad arrivare, ma comunque non appena arriverà potremo ultimare il rivestimento. E come vedete qui Fabri ha già iniziato a costruire lo scheletro per le panche perché proprio in quest'area qua dietro andremo a creare la dinette, quindi salottino di giorno e letto di notte. Per fortuna il daily è molto largo, è largo circa 1,80 m a questa altezza diciamo, perché poi si va a stringere, quindi abbiamo deciso di realizzare il letto in orizzontale, quindi dormiremo in questo verso. E per, diciamo, sfruttare più spazio possibile di stivaggio al di sotto abbiamo deciso di realizzare una panca disposta ad U. In questo modo possiamo, siamo andate ad inserire due serbatoi da 105 litri ciascuno nella parte posteriore, mentre ci rimane tutto questo lato nei due lati per andare a stivare coperte, tutto un po' insomma. E poi in questa zona qua andremo a mettere i fuochi per cucinare e da questa parte, al di sotto di questa bella finestra che abbiamo, andremo a creare tutto un piano di lavoro con il lavandino in questo punto qua. E qua tutta una zona per cucinare e al di sotto andremo ad inserire il portapotti, quindi il WC chimico. Per quanto riguarda la doccia vi diciamo che la faremo, però vi faremo vedere più avanti dove andremo a posizionarla e come andremo a strutturarla. Quindi per ora, appunto, andiamo avanti a costruire i divanetti. Quindi come li stai costruendo questi divanetti? Con dei listelli di abete 3x4, poi li andiamo a rivestire e vediamo tutti con del compensato, poi verniceremo e poi vediamo. Andiamo ora andando avanti, decidiamo un po'. Grazie a tutti. Allora, la struttura delle panche è terminata, adesso bisogna iniziare a ritagliare i pannelli per chiudere il tutto. Allora, la struttura delle panche è terminata. Grazie a tutti. Allora, la struttura delle panche è terminata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con il silicone dietro al pannello e poi ci do delle viti che arrivano giuste giuste a prendere appena appena al compensato giusto per tenerle finché non tira il silicone. Allora, come avete visto, abbiamo chiuso i divanetti, quindi abbiamo chiuso la struttura, lo scheletro che abbiamo fatto con del compensato da un centimetro. E al di sopra adesso abbiamo preso dell'altro compensato spesso però due centimetri per andare a fare le panche un po' più robuste e adesso è già tagliata su misura e abbiamo preso il segno perché ovviamente andremo a riporre della roba qua sopra e faremo l'apertura in modo che una parte rimane fissa e si apre solo il pezzo davanti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.